La Lega chiederà a Livorno i voti dei 5 Stelle. Il commissario Ceccardi ha sottolineato siamo al governo insieme appellandosi al buon senso dei livornesi. Chi conosce i livornesi perché sono suoi concittadini e conosce anche il candidato del PD per essere stato suo collega a Telegranducato è il consigliere regionale Francesco Gazzetti. Come vede il ballottaggio a Livorno? Come andrà? Il ballottaggio è una gran bella sfida. Devo dire che Susanna Ceccardi con queste dichiarazioni certifica il fatto che ha commissariato anche il candidato del centro-destra. Devo dire che i livornesi hanno ovviamente una grande capacità di discernimento, una piena autonomia che li deriva da una storia importante e che sicuramente sapranno anche distinguere tra l'ennesimo tentativo di un personaggio politico di utilizzare una competizione elettorale per farsi della pubblicità rispetto poi al merito delle questioni. Livorno ha bisogno di risposte e di concretezza e credo che Luca Salvetti sia davvero la persona giusta per guidare la città. Cinque anni fa Livorno rappresentò proprio uno shock un po' politico. La città per criticare anche un governo PD durante molti anni e che non gli era piaciuto soprattutto nel finale ha scelto i 5 Stelle. Adesso tramontati ma rischia Livorno, città di una sinistra storica, di passare al centro-destra? Potrebbe davvero accadere? Innanzitutto bisogna utilizzare le parole giuste. Il rischio è che Livorno finisca nelle mani della destra, di una destra che non è una destra che ha fatto vedere anche in questi mesi che è disponibile anche a dialogare piuttosto che avere posizioni che vanno sul merito delle questioni. Abbiamo visto i comportamenti di questa destra, l'abbiamo visto a livello nazionale, a livello europeo. Credo che Livorno, come sempre ha fatto, saprà dare un segnale importante. Sarà un segnale, secondo me, che sarà significativo per la politica nazionale ma per quella anche europea. e credo che i valori, ad esempio, dell'antifascismo, della solidarietà e i valori fondanti della città non saranno messi in discussione e soprattutto saranno attualizzati e portati anche nel futuro. E credo che Luca Salvetti sia la persona giusta per poterlo fare.